Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di un argomento scottante che riguarda il famoso dating show uomini e donne. Secondo alcune fonti, Maria De Filippi starebbe pensando di fare una vera e propria rivoluzione nel programma, eliminando il trono classico. Scopriamo insieme quali potrebbero essere i cambiamenti in arrivo e quali sono le ipotesi per il futuro di questo popolare show televisivo.Recentemente, è immersa la notizia che Maria De Filippi potrebbe prendere una decisione radicale riguardo al trono classico di uomini e donne. Dati gli scarsi ascolti registrati negli ultimi tempi e l'interesse in declino nei confronti dei giovanissimi partecipanti, sembra che la conduttrice stia valutando l'eliminazione di questa parte del programma. Il trono classico ha faticato a coinvolgere il pubblico, e i tronisti più giovani sembrano avere sempre meno presa sugli spettatori. I quali sembrano orientarsi maggiormente verso situazioni più mature e consolidate, come quelle proposte nel trono ove. Questo cambiamento potrebbe portare ad un'evoluzione radicale nel format di uomini e donne. Secondo alcune fonti, Maria De Filippi starebbe pensando di dare spazio a persone più mature e conosciute nel mondo dello spettacolo per sostituire i giovani tronisti. Ci sono voci che suggeriscono la possibilità di vedere volti noti come Mirko Brunetti, reduce da esperienze come Il Grande Fratello e Temptation Island, o addirittura Gianni Sperti e Tina Cipollari, attuali opinionisti, potrebbero diventare protagonisti in cerca di nuovi amori nel dating show. Questa svolta potrebbe comportare dei rischi, come la perdita di parte del pubblico giovane, ma potrebbe anche portare nuova linfa al programma, attirando un pubblico più maturo e interessato a relazioni più consolidate. E con questo è tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like, condividere e iscrivervi al canale per altri aggiornamenti su uomini e donne e tanto altro ancora. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.